Ritrovata nella stazione sulla linea ferrata del primo tunnel che conduce ad agrigento in uno stato pluritraumatizzato e tratto in salvo grazie all'intervento dell'associazione animalista RON. E' la storia di un cucciolo femmina di appena 60 giorni che è stata sottratta dalla morte certa alla quale sarebbe andata incontro se fosse rimasta qualche ora in più senza cure e senza l'amore di qualcuno che le desse aiuto. Questo cucciolo stava lì da 48 ore ed era stato investito in pieno dal treno. Aveva subito la totale amputazione della zampa sinistra, la parziale amputazione della zampa destra e l'amputazione della coda. Durante questo pomeriggio Mira, nome d'Atole dall'associazione che indica il diminuitivo di Miracolo, è stata sottoposta ad un difficile e delicato intervento da parte del veterinario Giuseppe Carbone che ha spiegato al nostro microfono le peculiarità dell'operazione eseguita, confortandoci sulle buone possibilità di ripresa. Abbiamo provveduto ad amputare la parte necrotica, anche perché c'erano andate le larve delle mosche, avevano fatto i vermi, quindi c'era il rischio anche di una setigemia, di un'infezione molto più grave. Abbiamo asportato tutta la parte malata, la parte fratturata e abbiamo ricostruito. Dopodiché, qui si può vedere, abbiamo fatto questa amputazione, qui ci sono i punti di sutura, questa parte era tutta maggiullata e l'abbiamo asportata. La coda era a metà, una buona parte era tutta escoriata, con delle fratture abbiamo pure amputate, abbiamo ricostruita. Mentre in questa zampa c'era tutta la cute che mancava e per cui abbiamo fatto una curettage chirurgico, abbiamo asportato i tessuti necrotici, comprese anche alcune dita che erano completamente insensibili, e senza erano più vascolarizzate. Abbiamo pareggiato tutto e abbiamo messo un tessuto, un materiale collagene, che sarebbe per ricostruire, per accelerare i processi di guarigione. Ogni giorno verrà fatta una medicazione. Nell'arco di due mesi, questo è un cane che potrà tranquillamente camminare, ha tre zampe ovviamente. Qui si creerà una sorta di tessuto cicatriziale che non è esattamente uguale a quello di partenza, però comunque è abbastanza efficace per proteggere il tutto e anche per rendere la parte inferiore un po' più callosa, per cui li può appoggiare, può camminare tranquillamente. Chiunque volesse aiutare Mira può inviare un proprio contributo al conto corrente postale 37317625 oppure chiamare il numero 3809048200.